Ciao a tutti da DiegoDitecanophone.it, questa è la nuova Smart E-Vision, appena si è andato per terra il mio smartphone. Una macchina decisamente del futuro è nata per essere utilizzata con il car sharing, ovvero voi semplicemente dal vostro smartphone scaricate l'app, la chiamate, lei vi viene a prendere sotto casa, da sola, salite e vi porta a destinazione. Guida lei, ci pensa lei, è possibile anche condividerla con un'altra persona perché grazie all'enorme display che abbiamo dentro ci sarà la possibilità poi di visualizzare i due profili delle persone che sono all'interno dell'abitacolo e vi mostrerà tutte le cose che avete in comune, magari potete anche trovare moglie e marito e potrebbe essere davvero una buona cosa. Quando l'auto non viene utilizzata prende parte e va a ricaricarsi da sola, un po' come quei robottini della aspirapolvere. Il design è davvero spettacolare del futuro, guardate l'apertura della portiera come avviene in modo leggero dal gabbiano. È stata presentata al salone di Francoforte, chiaramente non abbiamo ancora idea di quando e se arriverà sul mercato, comunque ragazzi è davvero uno spettacolo per gli occhi. Questa era la nuova Smart. Ciao ciao!